nuova vita per rocca costanza accordo per la ristrutturazione via i vaccini anti covid per i bambini fra 5 11 anni carenze personale sanitario la regione si attiva per il reclutamento cancellato il concerto di caparezza previsto a pesaro ad aprile una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 del digitale terrestre ben ritrovati a rossini news il nostro spazio dedicato all'informazione serale telegiornale di martedì 14 di dicembre che apriamo occupandoci dell'accordo siglato questa mattina per la ristrutturazione e trasformazione di un monumento simbolo della città di pesaro come quello di rocca costanza l'ex carcere svolta infatti in una versione sempre più fruibile a cittadini e visitatori nuova vita per rocca costanza uno dei luoghi simbolo più riconoscibili della città di pesaro sarà ristrutturata e trasformata nei suoi utilizzi e nella sua fruibilità alla cittadinanza oggi nel comune di pesaro è stato infatti perfezionato l'accordo fra l'amministrazione e agenzia del demanio ministero della cultura e soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio che concretizzerà un imponente lavoro di ristrutturazione che prevede nel 2022 il completamento di lavori di funzionamento strutturale attualmente in fieri per poi preparare il via a alcuni cantieri nel 2023 con data di fine lavori previsti nell'autunno del 2024 lavori che prevedono una svolta in senso museale con il trasferimento negli spazi della rocca dell'archivio di stato attualmente in via della neviera oltre a tutta una serie di accorgimenti che vanno nella direzione della maggiore fruibilità della rocca che sarà pensata per eventi e iniziative culturali ad esempio ci sarà la ristrutturazione del fossato dell'atrio e la creazione di una seconda uscita di sicurezza lavori che avranno l'agenzia del demanio come stazione appaltante di opere che metteranno assieme 3 milioni e 600 mila euro dallo stesso demanio un milione e 400 mila euro dal ministero che si aggiungono ai 600 mila già appaltati per il 2022 più la quota parte del comune di poco superiore ai 400 mila euro l'obiettivo è rendere Rocca Costanza un luogo non solo bello ma un luogo vivo un luogo non solo da vedere dall'alto ma da vivere dall'interno una parte importante diventerà luogo culturale della città con la possibilità di eventi di utilizzo del fossato e anche l'archivio di stato diventerà sostanzialmente un museo quindi un grande investimento altre risorse che vengono da Roma verso Pesaro è un contributo fondamentale per la crescita artistico culturale della nostra città per noi è importante il completamento e la fruizione perché è evidente che è un simbolo della città Rocca Costanza negli ultimi anni prima del covid l'abbiamo vissuta sempre di più e con questa seconda apertura che sarà a carico del comune una seconda uscita di sicurezza potremmo alla Rocca ospitare anche tanti eventi culturali. L'accordo ha messo al tavolo del sindaco Ricci il responsabile regionale del demanio Cristian Torretta l'architetto Simona Guida della soprintendenza e il direttore dell'archivio di stato di Pesaro Orbino Sara Cambrini un accordo suffragato a distanza dalla direttore generale dell'agenzia del demanio Alessandra Dalverme ed Anna Maria Buzzi Maola Sciri in rappresentanza del ministero della cultura. I lavori del demanio inizieranno da quello che ha detto il dottor Torretta 2023 fino al 2024 la sovrintendenza con il segretariato regionale viceversa sta facendo i lavori alla Rocca Costanza e li farà per tutto il 2022 perché dobbiamo portare a completamento i finanziamenti che sono rimasti in capo a noi e come vi dicevo farà in modo di trasferire il bene all'agenzia del demanio per la conclusione dei lavori. Noi ci occuperemo sostanzialmente dei lavori di stretta competenza quelli più relativi ad i restauri e i consolidamenti gli ultimi che ci sono da fare per poi lasciare diciamo all'agenzia del demanio tutta la sistemazione delle finiture e delle ultime cose insomma. mentre la direzione generale archivi si occuperà con un finanziamento dedicato a tutto l'allestimento dei depositi degli archivi. Tanto per cominciare non abbiamo firmato un protocollo ma un accordo un accordo vincolante per tutte le parti quindi nella team della squadra che porterà avanti l'attività ci saranno sia elementi del comune che elementi del del ministero dei beni culturali e l'obiettivo è quello di superare qualsiasi inciampo inconveniente che può capitare in corso d'opera e garantire che entro capodanno 2024 una parte della festa si faccia all'interno della Rocca. Un onore per l'agenzia del demanio partecipare a questo accordo che ci consenterà di essere elemento acceleratore di un percorso che hanno iniziato i beni culturali anni fa e che porterà finalmente Rocca Costanza ad una nuova vita. Partono le vaccinazioni anti covid-19 anche nei bambini fra i 5 e gli 11 anni. Da domani infatti anche nelle Marche si potrà prenotare il vaccino e noi a tal proposito abbiamo ascoltato l'analisi di una pediatra di Pesaro in merito a questa nuova fase della lotta alla pandemia. Da domani 15 dicembre alle ore 12 nella regione Marche sarà possibile prenotare la vaccinazione anti covid-19 per i bambini tra i 5 anni compiuti e gli 11 anni. Una nuova somministrazione che partirà dal giorno successivo giovedì 16 dicembre e si parte con 4 punti specifici nell'area Vasta 1. L'ospedale di Urbino, il distretto di Cagli, la Casa della Salute di Vallefoglia e l'ospedale di Muraglia a Pesaro. Le prenotazioni dovranno essere effettuate tramite la tessera sanitaria e il codice fiscale del bambino con le modalità ormai note attraverso il portale di poste italiane. Ad essere inoculato sarà il vaccino Pfizer-BioNTech con una dose ridotta, pari ad un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti e in formulazione specifica. Le due dosi andranno somministrate a 21 giorni di distanza e nei bambini severamente immunodepressi il ciclo potrà essere completato con una dose addizionale dopo almeno 28 giorni dalla seconda inoculazione. Un nuovo step della lotta alla pandemia caldeggiato dagli stessi pediatri. Il primo consiglio è che dobbiamo tenere conto di quanto più contagiosa sia la variante che sta attualmente circolando e quindi di quanto stia adesso interessando e facendo ammalare i bambini, cosa che non era successa nelle prime fasi della pandemia con il virus originale e con la prima variante. Abbiamo tantissimi bambini che adesso si ammalano. La malattia non è sempre lieve, è vero, è nei bambini molto più spesso lieve rispetto agli adulti, ma anche nei bambini possiamo avere malattie gravi da covid e quindi è importante proteggerli. Li proteggiamo per tante altre malattie perché non dobbiamo proteggerli per questa, che è una malattia che può dare anche lesioni importanti. Come proteggerli? Ormai lo sappiamo, contro i virus l'unico modo per proteggersi veramente è il vaccino. La fascia pediatrica per ora è scoperta, ma è proprio il virus che è cambiato e è diventato più contagioso. Non è solo perché ci sono altre fasce che sono protette, è lui che riesce a far ammalare, a infettare anche bambini che hanno meno recettori, i bambini hanno molti meno recettori per il virus. Lui è più contagioso e lui riesce ad infettare e a farli ammalare. Ha parlato appunto di come il virus è mutato in questa fase. Il vaccino, che specificità ha per questa fascia pediatrica? Allora, per questa fascia pediatrica è stato studiato un vaccino apposta. È sempre un vaccino ad mRNA con un dosaggio apposta per il bambino, adeguato al bambino. Questo vaccino può proteggere il bambino come ora ha dimostrato di proteggere l'adulto. È un vaccino sicuro, non rimarrà dentro di noi quello che entra con il vaccino, viene distrutto dopo pochissimo tempo, ma ci ha dato modo di difenderci, di imparare come difenderci nei confronti di questo virus. Sale a 212 casi settimanali ogni 100.000 abitanti l'incidenza di contagio da Covid-19 nella regione Marche, una regione che anche oggi registra 515 nuovi casi di contagio, di cui 96 nella provincia di Pesaro e Urbino. Salgono anche i ricoveri con 163 pazienti in degenza, di cui 36 in terapia intensiva. Oggi purtroppo si contano altri due decessi, un uomo di 73 anni di Eefano e uno di 61 di Senigaglia. Abbiamo parlato di vaccini che sono uno dei fronti della lotta al Covid, altro fronte è quello dei rinforzi in termini ospedalieri. Ieri infatti vi abbiamo dato notizia del concorso bandito da regione Marche e Asur per reclutare 13 nuovi medici e chirurghi all'ospedale al pronto soccorso di Pesaro. Una prassi che ha visto l'impegno in prima linea del Consiglio regionale, come ci ricorda Nicola Baiocchi, intervistato ai nostri microfoni. Nicola Baiocchi, consigliere regionale, reduce da un Consiglio regionale importante perché si è cercato di dare una risposta concreta per quello che è nelle disponibilità dei poteri della regione a questa emergenza sanitaria. Sì, è stata delle comunicazioni fatte dall'assessore Filippo Sattamartini che hanno lasciato tutti contenti e fiduciosi su quello che si può fare. Adesso bisogna necessariamente intervenire, la regione lo sta facendo, non è il momento delle polemiche e delle responsabilità perché sappiamo che questo è un problema ormai cronico, un problema nazionale che stiamo cercando di affrontare nel più breve tempo possibile. Purtroppo molti concorsi vanno deserti, la regione sta cercando di reperire medici per porre un freno a questa grossa problematica del portosoccorso dell'ospedale San Salvatore di Pesaro di Marche Nord in generale, ma in generale dei vari portosoccorsi della regione. Quindi otto medici presi da un concorso ASUR che è in atto sostanzialmente e altri cinque derivanti dall'area chirurgica. Quindi si cerca in tutti i modi di mettere questi medici, questi nostri ormai eroi perché sono due anni che ormai sopportano un carico di lavoro ormai elevatissimo, cercando di metterli veramente nella condizione di poter lavorare al meglio. Questa è una boccata d'ossigeno che però non risolve un problema che va oltre le competenze regionali, si parla comunque di una programmazione nazionale carente da questo punto di vista? Assolutamente sì, non deve essere un alibi, ma la regione Marche farà tutto quello che nelle sue possibilità, nei suoi poteri per indire concorsi, cercare di trovare del personale utile a questa causa. Il personale di Marche Nord, basta ricordare che prima del 2020 erano 38 unità e adesso sono arrivati 27 tra pensionamenti e altre fuoriuscite. Quindi bisogna assolutamente fare in modo che questo personale sia stimolato a venire all'interno del nostro ospedale e a lavorare nell'interesse dei nostri pazienti e all'interno territorio provinciale. È dal mese di giugno che l'associazione Timmagini Onlus richiede a gran voce la possibilità di riportare la clownterapia tra i bambini della pediatria dell'azienda ospedaliera Marche Nord con un reparto che attualmente è attivo solo all'ospedale Santa Croce. L'associazione che ha sede a Pesaro ha una convenzione con l'azienda da nove anni ma riferisce che l'autorizzazione viene negata da mesi senza alcuna spiegazione. Per l'associazione si tratta di un diniego immotivato, tanto più che sono già riprese le attività di clownterapia presso gli ospiti di Santa Colomba ed è stata pure rinnovata la convenzione con Marche Nord per il 2022. Insomma la convenzione c'è ma i volontari non sanno quando potranno tornare a fare compagnia ai piccoli ricoverati dopo la lunga pausa derivata dal Covid che dura da due anni. E arrivano nuovi contributi per le realtà sportive di Pesaro che hanno resistito alla pandemia continuando la loro attività. Ad annunciare ulteriori 90 mila euro stanziati dal comune Sindaco Ricci e l'assessore allo Sport Mila della Dora. L'intervento si rivolgerà alle realtà ancora attive che hanno richiesto o usufruito di spazi orari o che hanno avuto contratti di concessione per la gestione di impianti sportivi comunali nel periodo completo dal secondo semestre 2020 e il primo semestre 2021. Si potrà inoltrare domanda da domani, mercoledì 15 dicembre e non oltre il 20 di gennaio. Sono più di 70 i docenti e i dirigenti scolastici di Pesaro che sono andati in pensione nel 2021. Un esercito di educatori che oggi è stato accolto nella sala del Consiglio Comunale dal Sindaco Ricci e dall'assessore alla crescita Giuliana Ceccarelli per una cerimonia di ringraziamento. Nell'occasione Ricci ha anche caldeggiato l'idea del green pass obbligatorio anche a scuola per non ritrovare di nuovo l'intero sistema dell'istruzione in didattica a distanza. Concludere tempestivamente le opere di completamento della E78 è questo l'intento del protocollo d'intesa che è stato firmato oggi a Grosseto dal Sindaco della città toscana Anton Francesco Vivarelli Colonna e dal primo cittadino fanese Massimo Seri affinché la strada dei due mari veda finalmente la luce. I lavori sono infatti stati inseriti nell'elenco nazionale delle 14 opere strategiche del PNRR e sono previsti ingenti risorse a disposizione della realizzazione di infrastrutture. Per questo motivo i due sindaci vogliono cogliere questa opportunità portando un impulso deciso e concreto. E' stato annullato il concerto di Caparezza a Pesaro previsto nel palinsesto della Vitri Frigo Arena per il 4 aprile 2022. Ad annunciare a malincuore l'annullamento delle date di Pesaro e anche di Livorno lo stesso artista pugliese attraverso la propria pagina Facebook in cui spiega come le attuali norme per il contrasto della pandemia non permettano di suonare nei palazzetti a febbraio. Il tour è dunque rinviato di un paio di mesi e partirà a maggio. I biglietti resteranno ovviamente validi per le nuove date. Uno spostamento in cui però vengono persi per strada due appuntamenti appunto di Pesaro e di Livorno. Chi avesse già acquistato il biglietto per Pesaro potrà essere rimborsato o potrà vedere tramutato in ticket per le date di Bologna e Ancona che invece saranno riproposte nel nuovo palinsesto di concerti il 13 e 27 di maggio. Ed ora allo spazio alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero WhatsApp dedicato 370-366-7210. Segnalazioni che nelle scorse settimane ci hanno portato all'attenzione buche molto pericolose in centro storico ma con la particolarità del fatto che si trovano su un suolo privato ad uso pubblico. Nel prossimo servizio l'assessore all'operatività Enzo Belloni ci puntualizza competenze e responsabilità in una simile situazione. Rossini TV accende le telecamere sulle segnalazioni dei cittadini e le riaccende per trovare risposte alle problematiche. Nel mese di novembre chi transita in centro storico a Pesaro ci ha segnalato il perdurante stato di degrado della piazzetta di transito alle spalle di Piazza del Popolo nonché allo sbocco di via Amnesio Nobili prima parallela della centralissima via San Francesco. Buche enormi in una pavimentazione abbandonata a se stessa ma buche collocate in un suolo di proprietà privata. Enzo Belloni, assessore all'operatività spiega ai nostri microfoni come il comune non possa intervenire nella riparazione di una zona di transito privato ad uso pubblico. Quella è un'area privata ad uso pubblico quindi la competenza della manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del privato come succede anche in altre situazioni era consuetudine una volta quando si avviavano le procedure urbanistiche lasciare delle aree private ad uso pubblico. succede per strade, succede per parcheggi e succede anche per alcuni porticati quindi è una situazione diffusa in città e quello che ci preme sottolineare è che le aree private ad uso pubblico sono di competenza dei proprietari quindi dei privati. Il malaugurato caso di infortunio di un passante è allora il privato stesso a rispondere di possibili denunce. Ovviamente il privato che ne risponde la prima comunicazione di solito arriva agli uffici comunali e poi dopo gli uffici comunali rispondono e girano la pratica a chi di competenza. Orafo, consigliere comunale pentatleta è ora pure autore di un libro fotografico il cui recavato sarà devoluto in beneficenza. Questa l'ultima fatica di Emanuele Gambini con il suo volume Manu 5.0 che è stato presentato all'hotel Alexander Museum Palace di Pesaro. Campione nello sport e campione anche di beneficenza. Si chiama 5.0 il libro fotografico di Emanuele Gambini cinquantenne plurimedagliato atleta dell'ASD Gabbiano che dopo un anno in cui ha fatto incetta di titoli internazionali nelle discipline del pentatron quale biatel, triatel e laser run ora chiude il 2021 mettendosi al collo pure la medaglia d'oro della solidarietà. Gambini ha infatti realizzato un volume il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla fondazione Noi Domani che si occupa delle esigenze di persone con disabilità. Orafo, consigliere comunale pentatleta e ora Gambini è anche autore di un libro che è stato presentato all'hotel Alexander Museum Palace di Pesaro. 5.0 è un progetto che era nato un libro fotografico e uno storytelling su un atleta non professionista della città di Pesaro hanno scelto me e in questo anno e mezzo poi la decisione è stata quella di pubblicare personalmente il libro per fare un'azione di solidarietà di essere un buon esempio quindi ho deciso di pubblicare il libro verrà pubblicato non da una casa editrice ma direttamente personalmente da me e lo venderò a 10 euro e tutto il ricavato verrà dato in beneficenza alla fondazione Noi Domani. La fondazione Noi Domani è un'associazione di Pesaro che si occupa dei ragazzi con disabilità e ci sono ragazzi con varie disabilità e quindi fare questo gesto nobile può essere anche un buon esempio per altri da seguire per poi comunque perseguire questa strada e fare altre opere di solidarietà e di essere un buon esempio anche per gli altri. Il libro si troverà dai prossimi giorni sia alla fondazione Noi Domani alla quale verranno lasciate un po' di copie oppure contattando direttamente il sottoscritto su Facebook e i vari canali social. E si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo qualche appuntamento che potrete apprezzare a breve nella nostra emittente. Cominciamo proprio da quello che andrà in onda alle 20.15. Il nostro Paolo Pagnini è infatti tornato a trovare l'azienda dei fratelli Simoncelli. Si parlerà di mobilità elettrica e in questo caso verrà illustrato un nuovo prodotto il cosiddetto montascale dei fratelli Simoncelli. Appuntamento alle 20.15. A seguire alle 21.20 un'altra puntata di Masterfish il pesce va in onda come ogni martedì. Questa sera Paolo Pagnini e la nostra Roberta Esperide ci porteranno alla scoperta del finalista emerso dalla puntata che si è tenuta al ristorante La Canonica di Castel di Mezzo. Appuntamento alle 21.20 e poi altre repliche come vedete in grafica mercoledì, giovedì, sabato e domenica. E poi non perdetevi domani un'altra puntata di Green Tour il nostro splendido format alla scoperta delle bellezze del nostro entroterra. Domani andrà in scena proprio tutta la bellezza di Mondavio l'appuntamento è come ogni mercoledì alle 21.20 e poi la prima replica giovedì alle 15.45 e altre repliche che vedete in grafica venerdì, sabato e domenica. E dunque non mancano i buoni motivi per restare sintonizzati su Rossini TV ora vi lascio le previsioni del tempo e vi auguro proprio una buona serata in compagnia dei nostri programmi.